L'arte Friedrich Wilhelm Josef Schelling Sistema dell'idealismo trascendentale Come colui che, sottoposto al fatto, non compie ciò che egli vuole o d'intende, ma ciò che gli impone il destino incomprensibile sotto la cui influenza si trova, così pare che l'artista, per quanto sia pieno di intenzionalità pure, in rapporto a ciò che vi è di propriamente obiettivo nella sua creazione, si trovi sotto l'influsso di una forza che lo separa da tutti gli altri uomini e lo costringe ad esprimere o ad escrivere cose che egli stesso non penetra interamente e la cui significazione è infinita. Dunque, l'arte è l'unica ed eterna rivelazione che ci sia ed il miracolo, che fosse esistito anche una sola volta, dovrebbe persuaderci dell'assoluta realtà di quel sommo. Se, inoltre, l'arte è dovuta all'opera di due attività affatto diverse tra loro, il genio non è né l'una né l'altra, ma ciò che sta sopra ad entrambe. Se in una di quelle due attività, ossia in quella cosciente, dobbiamo cercare ciò che comunemente si chiama arte, ciò che peraltro non è, se non una parte di essa, vale a dire ciò che in essa viene esercitato con coscienza, ponderazione e riflessione, ciò che si può anche insegnare e imparare ed ottenere con l'aiuto della tradizione e con l'esercizio proprio. Al contrario, nell'elemento inconscio, che entra pure nell'arte, dobbiamo cercare quel che in essa non si può imparare, né ottenere, o con l'esercizio o in altro modo, ma può essere solamente innato per libero dono della natura, ed è quello che in una parola possiamo chiamare, nell'arte, la poesia. Se l'intuizione estetica non è, se non la trascendentale divenuta obiettiva, si intende di per sé che l'arte sia l'unico vero ed eterno organo e documento insieme della filosofia, il quale sempre e con novità incessante attesta quel che la filosofia non può rappresentare esternamente, cioè l'inconscio nell'operare e nel produrre, e la sua originaria identità col cosciente. Appunto perciò, l'arte è per il filosofo quanto via di più alto, perché essa gli apre quasi il santuario dove in eterna ed originaria unione arde come in una fiamma quello che nella natura e nella storia è separato e quello che nella vita e nell'azione, come nel pensiero, deve fuggire sé eternamente. La veduta che artificiosamente si fa della natura il filosofo è per l'arte l'originaria e naturale. Ciò che noi chiamiamo natura è un poema, chiuso in caratteri misteriosi e mirabili. Ma se l'enigma si potesse svelare, noi vi conosceremmo l'odissea dello spirito, il quale, per mirabile illusione, cercando se stesso, fugge se stesso. Infatti, si mostra attraverso il mondo sensibile solo come il senso attraverso le parole, solo come, attraverso una nebbia sottile, quella terra della fantasia alla quale miriamo. Ogni splendido quadro nasce quasi per il fatto che si toglie quella muraglia invisibile che divide il mondo reale dall'ideale e non è se non l'apertura attraverso la quale appaiono nel loro pieno rilievo le forme e le regioni di quel mondo della fantasia, il quale traduce solo imperfettamente attraverso quello reale. La natura per l'artista non è più di quello che ha per il filosofo, cioè solo il mondo ideale che appare tra continue limitazioni o solo il riflesso imperfetto di un mondo che esiste non fuori di lui ma in lui.